arepa si ripiene alle verdure 79 calorie a pezzo per ingredienti quantità e valori nutrizionali visita il nostro sito e adesso cuciniamo riscaldare l'olio d'oliva in un tegame aggiungere la cipolla tagliata molto finemente considerando che prepariamo un ripieno il peperone anch'esso finemente tritato per una cottura veloce mescolare bene per qualche istante per fondere gli aromi di cipolla e peperone cuocere coperto a fuoco basso da 5 a 7 minuti scoprire il tegame e verificare la cottura della cipolla e del peperone devono risultare morbidi e teneri aggiungere al composto la melanzana tagliata a cubetti molto piccoli ed a seguire la passata di pomodoro secondo le quantità indicate in ricetta infine condire il ripieno con l'origano il sale ed il peperoncino secondo gusto risulterà un sapore molto mediterraneo incorporare bene tutti gli ingredienti per distribuire gli aromi nel ripieno e cuocere sempre a fuoco lento e coperto per una decina di minuti a cottura ultimata il ripieno deve risultare morbido ed asciutto da poter facilmente essere utilizzato per guarnire le nostre repas in una ciotola capiente versare la farina di mais bianco ancestrale e per il colore la curcuma dalle proprietà antiossidanti ed il sale prendere qualche istante per incorporare gli ingredienti secchi con una frusta prima di proseguire con l'aggiunta della quantità di acqua calda indicata in ricetta e dell'olio di oliva per dare morbidezza all'impasto lavorare l'impasto per circa 10 minuti la farina di mais ancestrale è diversa dalla farina di mais bianco per la polenta ed ha il vantaggio di avere un indice glicemico basso è quindi indicatissima per problemi di glicemia l'impasto ottenuto risulta elastico stendere una sfoglia di 5 mm di spessore con un mattarello sopra ad un foglio di carta forno non è necessario l'uso di altra farina per stendere la sfoglia con l'aiuto di un tagliapasta ricavare dalla quantità di impasto ottenuta 28 tondi di 7 centimetri e mezzo l'uno ogni arepa necessita di due tondi di impasto guarnire un tondo di sfoglia piazzando al centro il ripieno di verdure preparato in precedenza utilizza la quantità necessaria senza esagerare così da poter richiudere le arepas per formare l'arepas porre sopra il ripieno un tondo di sfoglia e premere i bordi con le dita per far sigillare ogni arepa schiacciare il bordo con cautela senza far uscire il ripieno approfittare di questa fase per calibrare la quantità di ripieno giusta per ogni arepa in una padella antiaderente e senza aggiunta di grasso cuocere l'arepas per 15 minuti a fuoco basso controllando ogni tanto trascorsi il tempo rigirare l'arepas con cautela e senza bruciarvi e lasciarle cuocere per altri 10 minuti sempre a fuoco basso a cottura ultimata le arepas devono essere dorate su ogni lato le arepas sono pronte ottime calde sono anche uno snack delizioso a temperatura ambiente arepas ripiene alle verdure 79 calorie a pezzo dalla colombia con furore in versione italiana buon appetito buon appetito buon appetito buon appetito buon appetito buon appetito buon appetito